Andava la palla a cerchia ma c'è stato un estremi sul recupero della difesa lenta della Salernitana. Esperta ma lenta la difesa della Salernitana. Calcio d'angolo sul giovanissimo Catalano. Cross in area di rigore, Marchetti! Il portiere compie una prudezza e salva il risultato sullo stacco di testa di Marchetti. Grazie!